C'è una protesta in maniera un po' diversa, facendo cultura nel luogo che abbiamo detto è più adatto per la cultura che è la scuola. Ho dato spunto dall'ultima intervista che Mario Conicelli ha fatto qui in questa scuola. I giovani non devono invitarsi a protestare, protestare ma scendere, muoversi e spingere, spingere anche con la forza. C'era un sistema che faceva sì che apprendere e insegnare a Roma fosse una cosa particolare. I colleghi tedeschi lavorano esattamente quanto noi. Un insegnante tedesco percepisce circa 57.900 euro l'anno contro i 32.000 del collega italiano. Il carcere e lo spazio è breve. Vivi in pochi metri quadrati, ma il tempo ha una durata enorme. Cesare deve morire, è la messa in scena da parte dei detenuti di Re Bibbia, dell'opera di Shakespeare, il Giulio Cesare. Quando studiavo io c'erano i libri di carta, oggi c'è internet, ci sono i libri elettronici e succede anche che siamo noi insegnanti a imparare dai ragazzi. Abbiamo fatto un video in risposta a video vecchioni. Non importa se leggiamo un libro con le pagine o il monitor di un computer. Con la scuola, con l'arte, con la cultura, con la letteratura, noi nutriamo il cervello. Con la scuola, con la cultura, con la cultura, con la cultura, ma un acquirzo. Con la scuola, con la cultura, con la cultura, con la cultura, anche la Newman, con la cultura, 팔찍a e catt Grazie a tutti.